Del Mediterraneo ho parlato tante volte, perché sono Vescovo di Roma e perché è emblematico il Mare Nostrum, luogo di comunicazione fra popoli e civiltà, è diventato, il Mare Nostrum è diventato un cimitero. E la tragedia è che molti, la maggior parte di questi morti, potevano essere salvati. Bisogna dirlo con chiarezza, c'è chi opera sistematicamente e con ogni mezzo per respingere i migranti. Per respingere i migranti. E questo, quanto è fatto con coscienza e responsabilità, è un peccato grave.